A Firenze è un convegno nazionale dedicato a padre Ernesto Balducci a vent'anni dalla sua scomparsa. Un incontro dedicato ai temi della pace e della convivenza fra i popoli. L'ha seguito per noi Walter Daviti. L'assinamento del padre Balducci è rimasta fondamentalmente un'ispirazione. Balducci profondamente cristiano, profondamente prete, eppure proprio per questo profondamente convinto della laicità. Se vuoi la pace, prepara la pace. Lo stesso titolo del convegno voluto 30 anni fa da padre Ernesto Balducci. Una riflessione sulla pace, sui diritti umani e sulla convivenza per ricordare il ventennale della scomparsa del fondatore della rivista Testimonianze. Due, i temi principali della discussione. La guerra nella ex Yugoslavia, con i drammi della Bosnia e di Sarajevo, e le rivoluzioni che agitano oggi il Mediterraneo, dalla Libia all'Egitto. Nei 30 anni che dividono il primo e il secondo convegno, tante cose sono cambiate. La globalizzazione, per esempio, che allora non c'era, e poi i movimenti migratori dal sud al nord del mondo, con il loro fardello di speranze e di disperazione. Ma pure in questa diversità spicca ancora il messaggio di Ernesto Balducci, il vicepresidente del Senato, Vannino Chiti. Se si leggono oggi alcuni libri di padre Balducci, sembrano scritti ieri. Non solo su questa questione della pace, del Mediterraneo, su cui c'era anche un'esperienza di lapira, ma ad esempio sul primato della coscienza rispetto a tutto, alle leggi, alle religioni, come segno di una società che diventa civilmente più avanzata. Grazie.